Sono in presidio permanente da più di due mesi. In 800 hanno ricevuto la lettera di licenziamento e ora, a turno, stanno sfidando il freddo pungente di questi giorni, dopo aver trascorso un Natale e un Capodanno di mobilitazione. Da circa due mesi, una ventina di lavoratori della ex Wagon Leeds, tra addetti alla manutenzione e ex assistenti di viaggio, occupano uno stabile sulla Prenestina all'altezza del Pigneto. Protestano contro la scelta di Trenitalia di di tagliare i treni notte, che ha comportato il loro licenziamento assieme a quello di 800 colleghi impiegati nel comparto. Una scelta, sostengono, imposta dalla necessità di colmare un buco di 134 milioni di euro nel bilancio e dalla volontà di Trenitalia di puntare sulle tratte ad alta velocità. Ormai il viaggiatore è diventato l'economia che si sposta su un binario. Dato che c'è questa faida, questa guerra, bisogna spartirsi tutti i viaggiatori possibili e quindi incamerare e concentrare tutto su quello che appunto è l'alta velocità. Vittima di questa politica sarebbero, a detta dei lavoratori, i treni notte destinati a sopravvivere fino al 2013. Hanno lanciato una petizione per chiedere il ritiro dei licenziamenti e la revisione del piano industriale presentato dall'amministratore delegato di Trenitalia Mauro Moretti, raccogliendo già 7.000 firme e ricevendo la solidarietà e l'appoggio dei cittadini romani, di molte associazioni, dei centri sociali e di alcuni partiti come Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà. L'auspicio è quello che il governo ascolti le ragioni della protesta e intervenga, imponendo una risoluzione per ridare ai licenziati un posto di lavoro. Ci siamo radunati qui a Roma per manifestare e dichiarare che noi ci siamo e che la nostra voce urla contro queste scelte attuate da Trenitalia e dal suo amministratore delegato Mauro Moretti, perché non la riteniamo né giusta dalla nostra parte dei lavoratori che siamo 800 e sia per i cittadini perché avevano bisogno e necessitano tuttora di un servizio pubblico, un servizio che è stato garantito per oltre 130 anni.